Una macchina cosa sa di se stessa? Sa capire quando ha bisogno di essere riparata e quando no? Nell'industria e nel settore dell'energia, l'analisi predittiva sta aiutando le aziende a individuare i segnali di eventuali problemi e a risparmiare milioni sulla manutenzione, perché le macchine danno l'allerta prima di rompersi. È questo il mio lavoro, lavoro in IBM. Costruiamo un pianeta più intelligente.